Va bene, allora voi siete qui per la denuncia di furto dei bagagli Scusatemi qua, nella città dove rubano Va bene, cominciamo con lei, il suo nome Omar Rifald Sharif Omar Rifald Sharif Mi ricordo qualche cosa questo nome, male volte Va bene, nazionalità Talebano Talebano Invece lui chi è? Figlio Come si dice? Talebano, tale figlio Mentre talebano che tale scema Questa la mettiamo e poi la tagliamo, però la mettiamo La mettiamo a verba Non talebano Talebano, grazie Tale figlio Tale figlio